Salve ragazzi e benvenuti nel mio primo video del mio nuovo canale Io sono Marco Che cosa faremo in questo canale? In questo canale faremo un po' di tutto Gameplay, vlog e robe simili Allora, so che la qualità del video è pessima Perché sto registrando con il telefono Non ho neanche un microfono Però pian piano me lo comprerò Comprerò anche delle cuffie E un nuovo computer Perché mi servirà per scaricare dei programmi Per fare per esempio delle intro Della musica sottofondo E robe simili Anche per poter registrare con il computer Perché è molto meglio che con il telefono Ok ragazzi Volevo soltanto Cioè lo so che è molto ma molto corto Questo primo video Però volevo soltanto annunciarvi questo mio canale Cioè avevo già aperto un canale in passato Che non mi ricordo come si chiamava Andava Marco 89 o credo Credo, non lo so Ero proprio un canale vecchio E non avevo successo Avevo due iscritti Però facevo anche video Che facevano abbastanza schifo Ho fatto in tutto tre video E avevo due iscritti Quindi E avevo dieci like in tutti i video Dieci, quindici, venti E due iscritti Quindi non avevo Non avevo così tanto successo E Quindi ho deciso di aprire un nuovo canale Che sarà Speriamo Che avrà un po' più successo E Quindi Per questo video è tutto È abbastanza corto Scusatemi anche per Il video che è abbastanza Merdoso Scusatemi È abbastanza schifo Però più in più Mi comprerò Tutto quello che mi servirà Per registrare il video Ok ragazzi Per me è tutto Iscrivetevi E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao